Salve popolo, noi siamo le Double C e questo è il nostro canale Bene ragazzi, è la quinta volta che registriamo questa introduzione Perché la mia macchina fotografica la devo fare sparire Che è mai una gioia Siamo qua finalmente con questo video che avevamo registrato ma si è eliminato E quindi la serie è mai una gioia Abbiamo deciso di creare diverse versioni della ginnasta e l'incapace Quindi mettendo non solo la ginnasta ma anche ad esempio la nuser come in questo caso E l'incapace Esatto, o altra roba che ci verrà in mente col passare del tempo O magari voi potete scriverci qui sotto cosa vorreste vedere Cosa vorreste vedere E quindi niente, iniziamo con questo video E lasciate un po' di giun su per una prossima puntata Per l'incapace E iniziamo, via col video Allora, io ne avevo già fatti questi musicali si sono eliminati Let's go! Cos'è questo giro? Life! Vabbè, è kind of Allora, questa volta non è io che insegno i musicali a Claudia È una battaglia Quindi, come la ginnasta e linga Ti piace vincere facile? Allora la ginnasta e linga fashion Non ti piace vincere facilissimo E devo fare l'ultima Devo partire con quella faccia Cioè veramente, io non ho parole La transizione è bellissima La transizione è bene alla fine La L c'era E quindi io direi che va bene Esatto Capito? Tutto sto coso che fai Let's go! Cioè quando muovi la mano Devi muoverla opposto Blow Ok? No, tipo blow Scusami Vabbè, capito Vabbè, a caso come sempre Aspetta Bene, è venuta Diciamo No, dai Accettabile Ok Ok, veniamo a vedere Meglio di così Non lo volevo fare Senti meglio del mio sicuro A momenti, guarda Questa è di Naya La voglio fare Alla lentezza Non ci vuoi gli occhi Vai Così Così Sì No, dopo No, prima era vero Ma l'avevo iniziato bene Dai, stai migliorando I miei insegnamenti sono d'oro Ragazzi Se volete un corso di musica Iscrivetemi al 3-4 Esatto 3-4 no 3-4 no Ecco Io sta pistola Non la so fare Nemmeno io bene in realtà Io non la so fare Sembra Brava Madonna Aspetta Sembra la mano Quell'altro Da questo è Scary Movie 2 Il maggiordomo Mi metteva la mano Jeremy Miei Jeremy Miei Schifo Oh oh Brava Vabbè dai Diciamo che c'è Voletemi bene Un miglioramento Quello di prima era meglio Un miglioramento sottile Che pochi capiranno Però c'è Per i fari Teniamo la pistola Quello che vuoi Capito 1, 2, 3, 4 You know what I'm waiting for Dai carino 1, 2, 3, 4 You know what I'm waiting for Bene ragazzi Questa era la battaglia Muser vs incapace Lasciate un like Perché mi sono impegnata E devo dire che sono migliorata Sì è migliorata Sì è migliorata rispetto Sì è migliorata Sì è migliorata No è migliorata Arriviamo a 20.000 mi piace Per una terza parte Di Muser vs 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 link Versus incapace Là sotto vi lasciamo Tutti i link Dei nostri social Per poterci seguire Yeah E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao Sì è migliorata Sì è migliorata